5 ottobre Egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. Esdra 3, 11 La bontà di Dio Mi è capitato di sentire dei credenti avviliti pronunciare la frase, Dio non mi vuole più bene. Lo scoraggiamento fa brutti scherzi, ci fa vedere una realtà distorta. Dio non cessa mai di amare il suo popolo. Egli agisce sempre con grande bontà verso tutti i suoi figli. Certamente ci sono situazioni delicate, circostanze difficili nelle quali ci si può venire a trovare, come un'improvvisa e lunga malattia, come un inaspettato licenziamento, come un grave incidente. Non pensare che se queste cose si verificano nella tua vita è perché Dio ha smesso di amarti. Non è affatto vero. Considera piuttosto che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Romani 8, 28 Allontana dalla tua mente il pensiero che Dio non ti voglia più bene. È una grande menzogna. Proprio perché la bontà del Signore dura in eterno. Puoi star certo che nel momento della prova, Egli ti farà sentire la sua presenza, ti incoraggerà, ti aiuterà ad affrontare la situazione e andare avanti con nuove forze. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.